Benvenuti o bentornati sul mio canale, il mio nome è Chiara e sono appassionatissima di Cronaca Nera e proprio su questo canale voglio trattare casi nazionali ed internazionali e per il caso di oggi ci troviamo in Italia. Vi ricordo che non questo video ma il secondo che pubblicherò questa settimana farà parte della mia rubrica che parla di crimini che sono avvenuti in luoghi di vacanza o comunque a persone che purtroppo sono rimaste vittime di crimini violenti mentre si trovavano in un luogo di velleggiatura. Se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale ed iniziamo subito con la storia di oggi. Questa storia, questa vicenda mi ha profondamente turbato e anche addolorato leggendo i dettagli veramente scioccanti di come questa donna purtroppo è venuta a mancare. Questa è la storia di Iole Tassitani. Iole nel 2007 viveva a Castelfranco, Veneto e aveva 40 anni. La donna viveva nella periferia di Castelfranco non lontano dalla casa dei suoi genitori Luigi e Marisa e delle sorelle Luisa e Rosa Maria. Lavorava da tempo nello studio notarile di suo padre Luigi ed era veramente attaccata alla sua famiglia. Iole amava viaggiare, era una persona molto attiva e verso la fine del 2007 aveva anche iniziato a praticare dello yoga. Lei e la sorella Luisa condividevano l'amore per Claudio Baglioni. Avevano partecipato a molti dei suoi concerti e Iole ogni volta che vedeva il suo idolo sul palco si entusiasmava. Come racconterà sua sorella Luisa in una lettera indirizzata a Iole, aveva proprio scritto che Iole si emozionava come una ragazzina con la metà dei suoi anni. Iole amava la sua casa nella quale viveva da ben otto anni, l'aveva resa accogliente, sua, aveva fatto installare un caminetto davanti al quale amava scaldarsi nelle notti invernali, l'aveva riempita di piante ed aveva preso due gattini a cui era molto legata. Era una donna molto solare, gentile con tutti, molto affettuosa con sua madre. Una persona che amava la sua vita conduce un'esistenza tranquilla, quasi monotona, non nel senso negativo del termine. Ogni mattina si reca al lavoro dal padre per rincasare intorno alle otto di sera nel suo appartamento. Non si era mai sposata e al momento dei fatti nel dicembre del 2007 non si frequentava con nessuno in particolare. Era una donna discreta, dedita al lavoro e alla sua splendida famiglia. Il 12 dicembre del 2007 è un normale mercoledì, Iole esce dall'ufficio e prima di rincasare passa a casa di sua madre Marisa, trascorre del tempo con lei e se ne va intorno alle 20 e 15. Quella sera, poco dopo aver lasciato casa dei suoi genitori, parla brevemente al telefono con una sua amica. L'indomani mattina, quindi giovedì 13 dicembre, Iole non si presenta al lavoro e non avvisa nemmeno della sua assenza. Suo padre cerca di contattarla tutti e tre i suoi cellulari, ma risultano tutti essere spenti. Pensano magari che Iole non si era sentita bene, così alcuni membri della sua famiglia vanno direttamente a controllare a casa di Iole, visto che comunque avevano una copia della chiave, ma al suo interno non c'è traccia della donna. La sua macchina, una Ford Fiesta grigia, viene trovata qualche centinaio di metri da casa sua, ma non dove Iole era solita parcheggiarla, vale a dire nel garage o davanti proprio la sua abitazione. Quindi sembrava un po' strano che l'avesse lasciata lontano, ecco, da casa sua. All'interno dell'abitazione tutto sembra essere in ordine. Nel garage, tuttavia, qualcosa allarmerà la sua famiglia. Infatti a terra vengono trovati i suoi occhiali da vista. Iole soffriva di miopia e senza gli occhiali non avrebbe certamente potuto guidare. A terra viene trovato anche un guanto che però non sembra appartenere a Iole. Nessuno sa dove si trovi la donna e così ne viene denunciata la scomparsa alle autorità. Una sua amica, quindi un'amica di Iole di nome Angela, quella mattina 13 di dicembre, nota che la sera prima Iole le aveva inviato un SMS alle 21. Un SMS particolare, di cui lei purtroppo si era accorta solo l'indomani mattina. E quando durante la giornata del 13 Angela viene a conoscenza della scomparsa della sua amica, mette al corrente gli investigatori di quello strano messaggio. Iole le aveva scritto, sono stata parita. Come se nella fretta di scrivere il messaggio avesse scelto il vocabolo sbagliato o più probabilmente la lettera sbagliata o magari era partito il correttore automatico. Angela quando sente della sua scomparsa capisce che Iole voleva dirle sono stata rapita. La sua amica voleva chiederle aiuto e con quasi assoluta certezza Iole la sera prima aveva cercato in vano di chiederle aiuto e dalla scena all'interno del garage si ritiene che il garage è proprio il luogo dove Iole era stata prelevata contro la sua volontà. All'inizio il procuratore di Treviso si occupa delle indagini e non si sbilancia, dichiarando che al momento non sapevano se si trattasse di un allontanamento volontario, se fosse invece legato alla sua vita privata o magari si trattava di un sequestro di persona a scopo di riscatto. I carabinieri mettono sotto sequestro l'appartamento di Iole ed analizzano l'interno e l'esterno della sua Ford Fiesta con la speranza magari di riscontrare tracce di DNA o magari delle impronte digitali. Sappiamo con certezza che Iole doveva essere stata rapita tra le 8 e 30 e le 9 di sera. Aveva infatti lasciato casa della madre intorno alle 20 e 15 poi aveva parlato brevemente con la sua amica al telefono e sappiamo che alle 9 aveva inviato quell'sms alla sua amica quindi diciamo in un arco di tempo relativamente circoscritto. La famiglia ritiene che Iole sia stata rapita proprio con la finalità di chiederne un riscatto visto che la famiglia Tassitani era una famiglia nota nella zona, benestante. Ma i giorni passano e non arriva nessuna comunicazione dai rapitori. Si indaga così sulle amicizie della donna sia quelle online sia quelle diciamo nella vita reale. Iole infatti frequentava diversi forum online per fare amicizia. I carabinieri interrogano amici, familiari, conoscenti, ex fidanzati passano veramente al microscopio ogni relazione che Iole abbia mai intrapreso e si focalizzano su un uomo che la donna aveva conosciuto su uno di questi forum online con il quale aveva iniziato un'amicizia qualche tempo prima ma al momento dei fatti i due si erano già allontanati da qualche tempo. Quest'uomo era anche irreperibile in quel preciso momento. Una peculiare coincidenza pensano i carabinieri sparire proprio nel momento in cui Iole è scomparsa ma dopo poco gli inquirenti riescono a mettersi in contatto con l'uomo ed il motivo per cui era sparito era semplicemente che gli investigatori avevano il numero sbagliato dell'uomo quindi per questo era stato impossibile rintracciarlo. Vennero analizzate le telecamere di sorveglianza presenti nel paese come anche i circuiti di videosorveglianza degli autogrill della A27 pensando che magari chi l'aveva rapita aveva lasciato la zona in autostrada. Nel paese le telecamere riprendono qualcosa di sospetto. Quella sera del 12 dicembre si vede infatti qualcuno guidare la Ford Fiesta grigia e quel qualcuno era proprio Iole che però stranamente non indossava gli occhiali e come sappiamo avrebbe avuto delle grandi difficoltà a guidare senza quegli occhiali. Forse il sequestratore era nascosto al suo interno e stava obbligando Iole a guidare? Il 16 di dicembre il padre Luigi Tassitani riceve quella che sembra essere più uno squillo che una chiamata perché appunto la durata era molto breve dal telefono della figlia ma immediatamente dopo questo stesso telefono viene spento e anche nei giorni successivi un altro familiare riceverà un altro squillo dallo stesso telefono. Due di questi tre telefoni di Iole erano stati accesi e poi spenti a più riprese. I tecnici informatici dei carabinieri avevano cercato di tracciarne la localizzazione ma non era possibile stabilirne un punto preciso perché questi, diciamo, telefoni e quindi la persona che li aveva utilizzati si era spostata in più punti nella campagna veneta. Gli investigatori ritengono che i rapitori possono essere due persone e forse anche di più. I genitori di Iole, Luigi e Marisa partecipano anche alla trasmissione Chi l'ha visto facendo un appello a chiunque avesse informazioni su Iole a farsi avanti ed il 22 dicembre alcuni giornali iniziano a parlare di un SMS ricevuto dalla famiglia di Iole in cui veniva chiesto un riscatto. Infatti nei giorni precedenti, sempre da uno di questi tre cellulari di Iole viene inviato un messaggio a suo padre al quale viene chiesto un riscatto di 800.000 euro per liberare sua figlia Iole e a questo SMS ne seguono altri e tutti questi, diciamo, messaggi che venivano inviati tra il cellulare di Iole e il cellulare del padre servivano ovviamente a coordinare la trattativa ma la persona che li stava inviando non si trovava in un luogo specifico quindi come per gli squilli si stava spostando in diverse zone il primo comune in cui viene localizzato il telefono è Cittadella e il secondo messaggio invece viene inviato da un comune limitrofo il rapitore comunica solo tramite SMS non chiama mai probabilmente proprio per evitare che la sua voce venga registrata l'antimafia di Venezia prende le redini dell'indagine trattandosi di un sequestro e congela i conti della famiglia Tassitani questa procedura viene utilizzata in questo tipo di circostanze con la finalità di impedire la transazione tra la famiglia e il sequestratore questo viene fatto come diciamo deterrente per cercare di impedire che altri diciamo malintenzionati possano fare una cosa di questo tipo con la speranza di ottenere un riscatto la svolta nel caso però avviene quando un uomo di origini marocchine si presenta in caserma dalla polizia dopo aver letto della scomparsa di Iole sui giornali sostenendo che il suo ex cognato gli aveva chiesto di partecipare ad un sequestro la sorella infatti di questo di quest'uomo di origini marocchine era stata sposata con un certo Michele Fusaro e lo stesso Michele Fusaro qualche giorno prima era stato attenzionato dalla polizia perché era stato trovato il suo nome tra le persone che potevano conoscere Iole ma non si era approfondito oltre inizialmente si cerca di chiarire la posizione del testimone stesso cioè si cerca di capire se magari poteva avere qualche interesse a sviare le indagini contro il suo ex cognato ma quest'uomo sembrava avere delle intenzioni sincere non sembrava avere dei secondi fini la polizia scopre che Michele Fusaro aveva dei precedenti penali all'età di 16 anni con un gruppo di suoi coetanei avevano infatti sequestrato una ragazza ed il resto del gruppo ne aveva abusato sessualmente Michele aveva avuto un ruolo diciamo marginale in questa storia infatti si era limitato tra virgolette alla ricettazione degli oggetti che appartenevano a questa ragazza dai verbali della polizia risultava anche che per una pura coincidenza Michele fosse stato fermato da una pattuglia il 13 di dicembre quindi il giorno dopo la sparizione di Iole e si trovava proprio tra Vicenza e Treviso esattamente dove uno dei due i telefoni si era acceso per inviare gli sms quindi era una zona diciamo che lui conosceva e frequentava ma chi era questo Michele Fusaro? l'uomo risiedeva a Bassano del Grappa e viveva da solo lavorando come falegname in un mobilificio del posto in passato era stato sposato appunto con questa donna marocchina dalla quale aveva avuto anche un figlio una volta divorziati però la donna si trasferisce in un'altra città gli alimenti per il mantenimento di lei e di suo figlio avevano iniziato a pesare su Michele cercava sempre un modo per fare soldi extra infatti svolgeva altri due lavori distribuiva volantini per un supermercato e vendeva pentole a domicilio era diventato per lui un vero e proprio pallino l'idea di fare dei soldi si lamentava della sua situazione economica continuamente secondo lui infatti il mobilificio avrebbe dovuto pagarlo di più aveva un po' una personalità ossessiva con determinate cose era un maniaco della polizia ad esempio e un grande appassionato di fitness anche dal punto di vista alimentare aveva un'alimentazione molto salubre prendeva continuamente integratori insomma teneva particolarmente alla linea l'aspetto fisico era diciamo un uomo comune lo mettono così sotto sorveglianza lo pedinano con l'intenzione anche di ascoltare le sue conversazioni al telefono ma stranamente a partire dal 12 di dicembre l'uomo non fa e non riceve alcuna chiamata il 23 dicembre la polizia lo ferma mentre è in compagnia della sua attuale fidanzata con la scusa di un controllo di routine per una settimana intera viene seguito ovunque e l'uomo non si rega in luoghi particolari e non incontra nessuno a parte appunto la sua ragazza e così la polizia e i Ross decidono di fare irruzione a casa di Michele Fusaro nella notte tra il 23 e il 24 dicembre questo tipo di arresto diciamo a tarda notte mentre probabilmente il sospettato sta dormendo lo abbiamo visto anche in altri casi e ha la finalità di prevenire che il sospettato possa sia fare diciamo resistenza all'arresto sia distruggere eventuali prove quando la polizia irrompe nell'abitazione l'uomo si sveglia e quando realizza la situazione ha un malore e secondo i testimoni lì presenti però lo stava solo fingendo la casa è molto pulita ma come vi ho detto era un po' un maniaco della polizia non trovano nulla di particolare sicuramente non trovano Iole così decidono di perquisire il garage e quando i Ross entrano al suo interno subito sentono un odore molto forte di benzina e all'interno del garage notano due sacchi neri della spazzatura al cui interno c'erano i resti di Iole e scoprono che quell'uomo l'aveva fatta a pezzi Michele tra l'altro aveva lasciato una tannica di benzina senza coperchio proprio perché in questo modo avrebbe coperto almeno in parte l'odore della decomposizione del corpo a terra vicino a questi sacchi ci sono oggetti appartenenti a Iole come le scarpe che indossava al momento della sua scomparsa e anche degli occhiali da sole il medico legale e il biologo determinano che la donna era stata uccisa nei primi giorni del sequestro certamente Iole era stata tramortita con un forte colpo alla testa inoltre sul collo e sul volto erano presenti diverse echimosi era stata pugnalata tre volte sul corpo ed infine era stata sgozzata certamente con un grosso coltello Michele aveva utilizzato una sega per metalli per tagliare il corpo in 30 pezzi molto probabilmente Iole era stata uccisa nei primi giorni del sequestro e con altissima probabilità proprio la sera stessa del 12 dicembre quindi la sera in cui era stata prelevata la famiglia Tassitani quella notte stessa il giorno prima di Natale viene a sapere dell'atroce fine di Iole durante le indagini si scopre che il numero di telefono di Fusaro era presente nella memoria di un computer della donna come vi avevo brevemente detto prima tra i tanti lavori che Michele svolgeva era anche un rappresentante di pentole e padelle e proprio così aveva conosciuto Iole qualche tempo prima inizialmente quando Fusaro viene interrogato nel carcere di Vicenza dice di non essere lui il responsabile e che qualcuno gli aveva portato quei sacchi ma non era stato lui ad ucciderla ma non fornisce però il nome di questo o questi potenziali complici passa da un atteggiamento di spavalderia iniziale alla più completa disperazione durante questo interrogatorio e dopo nove ore ammette finalmente di aver ucciso la povera Iole sostenendo però che lui non voleva ucciderla ma solo ricattare la sua famiglia per i soldi del riscatto sostenendo che l'omicidio era stato un atto di impulso ma gli inquiranti non gli credono Fusaro probabilmente aveva pianificato sin dal principio di uccidere Iole anche perché la donna lo aveva visto in volto nell'armadietto del suo posto di lavoro quindi nel mobilificio vengono trovate le sue scarpe sporche di sangue che sangue che apparteneva a Iole e nel suo appartamento viene trovata una lista di donne benestanti della zona molto probabilmente pianificava di fare quello che aveva fatto a Iole anche ad altre donne il suo piano era quello di liberarsi dei resti di Iole nell'inceneritore dell'azienda dove lavorava ma non lo aveva fatto perché a quanto pare in quel periodo il macchinario era rotto così in quella settimana aveva maturato l'idea di lasciare i suoi resti in qualche zona sperduta della campagna veneta i suoi vicini così come anche il suo datore di lavoro lo descrivono come un uomo sempre gentile disponibile e anche una persona molto seria Michele era fondamentalmente un uomo normale nessuno avrebbe mai lontanamente immaginato che potesse fare una cosa di questo tipo magari era un po' particolare ma tutti noi conosciamo persone un po' strane nella nostra vita ma lungi il pensiero che possano mai compiere atti di questo tipo la sua amica Angela si sentì profondamente in colpa per non aver agito immediatamente per non aver capito l'indomani mattina che quello era un messaggio di aiuto e anche l'ex cognato di Michele a cui Michele aveva chiesto di partecipare al sequestro si sentì in parte responsabile dell'accaduto perché Michele aveva avanzato questa proposta al suo ex cognato solo tre giorni prima della sparizione di Iole il 9 di dicembre ma lui aveva pensato in quel momento che non fosse serio e pensa che magari si avesse denunciato le sue intenzioni prima del sequestro di Iole questo non sarebbe mai accaduto Michele Fussaro viene processato con il rito abbreviato è condannato a 30 anni di reclusione il rito abbreviato è un procedimento penale in cui si può chiedere al giudice di rinunciare alla fase cosiddetta del dibattimento al fine di ottenere un considerevole sconto di pena ed una riduzione della durata del processo e questa probabilmente è la ragione per cui Michele Fussaro non è stato condannato all'ergassolo ma solo a 30 anni di reclusione che poi 30 anni non sono ho guardato un'intervista ai genitori di Iole Luigi e Marisa Tassitani riguardo alla sentenza data a Michele Fussaro questo video era stato postato nel 2009 quindi credo che sia stata questa intervista sia stata fatta poco dopo l'emissione della sentenza e mi ha fatto veramente male guardare questi genitori profondamente addolorati innanzitutto perché hanno perso la loro figlia in un modo atroce e anche perché giustizia non è stata fatta in pieno citando Luigi Tassitani lui sostiene che la sentenza era stata più formale che sostanziale perché la famiglia di Iole ha sempre stata consapevole che questi 30 anni sarebbero stati poi ridotti per buona condotta per favorire un regime di similibertà il padre Luigi ribadisce in questa intervista che non solo Fussaro si è manchiato del crimine di omicidio e di sequestro di persona ma anche di occultamento di cadavere e di villipendio l'avvocato Quintavalle l'avvocato della famiglia Tassitani ha proprio esclamato alla fine del processo ma cosa bisogna fare per meritarsi l'ergastolo e onestamente me lo chiedo anche io secondo il padre di Iole e anche onestamente secondo me il rito abbreviato non dovrebbe proprio essere previsto per delitti di questo tipo in cui a decidere sulla sentenza è solo una persona i suoi genitori pensarono che il giudice magari essendo una donna sarebbe stata solidale nei confronti non solo di Iole ma anche della madre di Iole, Marisa ma così non è stato e il signor Tassitani conclude dicendo che ormai Marisa, la madre di Iole era una donna che non aveva più lacrime e proprio come aveva immaginato la famiglia Tassitani nel 2023 quindi quest'anno a Michele Fusaro è stato concesso il suo primo permesso premio di circa 10 ore questo dopo nemmeno 16 anni dall'aver sequestrato ucciso e fatto a pezzi una donna e si tema che questo possa aprire le porte ad ulteriori concessioni la consigliera regionale Silvia Ricciotto ha scritto una lettera al ministro della giustizia Carlo Nordio proprio nel 2023 chiedendo che non vengano concessi altri benefici ad un uomo che lei definisce un macellaio sottolineando come nel nostro paese manchi proprio la certezza della pena e il fatto che sia necessario che un crimine violento come quello di Iole sia sanzionato da pene forti è assolutamente inaccettabile che qualcuno non solo uccida una donna innocente e la faccia a pezzi ma che addirittura gli venga dato un permesso premio dopo nemmeno 16 anni non dovrebbe essere proprio contemplato nel nostro ordinamento una cosa del genere per un crimine di questo tipo mi auguro che questa lettera che è stata scritta dalla consigliera regionale faccia breccia nelle istituzioni riporti un po' diciamo di giustizia su questa vicenda Michele Fusaro non è certamente il primo a ricevere permessi premio dopo l'atrocità che ha commesso pensiamo ad Angelo Izzo e soprattutto pensiamo a quello che lui ha fatto con i permessi premi ha ucciso due donne e quindi voglio veramente sapere la vostra opinione su questo caso se anche voi come me siete profondamente indignati da come le cose insomma si stanno evolvendo ecco e detto questo io vi saluto e noi ci vediamo questo fine settimana con il prossimo caso ciao